Grazie Luciano, dunque 60 anni di carriera per i nomadi pieni di grandi successi e soprattutto 15 milioni di dischi. Ripercorriamola insieme con Laura Sansavini. Al mondo come longevità sono secondi solo ai Rolling Stones. Ecco la lunga carriera dei nomadi, una band nata nella bassa emiliana, soltanto un anno dopo Mick Jagger e Sochi e che dopo 60 anni ancora calca i palcoscenici e fa emozionare. Il sogno di due sedicenni che diventa realtà Augusto D'Aolio e Beppe Carletti, interpreti sensibili dei tempi che cambiano, brani diventati inno per diverse generazioni. Ho visto la gente della mia età andare via. Tanti successi e grandi numeri, 52 lavori, 15 milioni di copie vendute. La cultura è l'unico bene che è diviso, anziché diminuire, diventa più grande, dice il filosofo tedesco Gadamer. E la musica fra tutte le arti è forse quella più capace di moltiplicarsi e arrivare tra la gente. Per i nomadi questo è stato il faro di una vita e oggi le generazioni sono ancora lì, genitori, figli e nonni, uno a fianco all'altro.